buongiorno a tutti buongiorno a tutti oggi faccio un video in più perché l'argomento di cui voglio trattare è molto interessante soprattutto molto importante avrei potuto intitolare questo tipo questo video il club di leccaculo 2 dopo quello che ho dedicato ai giornalisti ma qui leccaculo non sono giornalisti leccaculo non sono persone particolari sono coloro che non si rendono conto a chi siamo in mano e mi riferisco ovviamente alla famiglia Agnelli Elkan in particolare adesso alla famiglia Elkan tutti voi sapete probabilmente che nel 2020 la famiglia Agnelli Elkan ha acquisito dalla De Benedetti la Jedi quella che pubblica la Repubblica la stampa tra l'altro anche il National Geographic italiano perché ha più versioni no ci sono versioni in ogni paese e chiaramente quando si compra una una casa editoriale una casa editrice bisogna averne cura perché non hai comprato carta straccia hai comprato lavoro di tante persone appunto i giornalisti e soprattutto il prodotto che magari viene da lontano quando tu non eri neanche nato quotidiani che hanno più di cento anni di storia quindi un valore anche affettivo io faccio l'esempio di Parma c'è gente che alla mattina si alza prima dell'orario del lavoro per andare a prendere la gazzetta di Parma in ericola non sto scherzando c'è la fila cioè è il giornale più venduto a Parma in assoluto voi direte bella forza la gazzetta di Parma capito ma la gazzetta di Parma non è che pubblica cose chissà che cosa clamorose però diciamo che è diventato un'abitudine un po come prendere il caffè dopo pranzo il cappuccino la brioche ma fare colazione insomma è diventato un'abitudine di vita per cui capite che se un domani qualcuno dovesse prendere la gazzetta di Parma parlo della mia città e trattarla come carta straccia sarebbe molto grave sarebbe molto grave e chi vi parla non legge la gazzetta di Parma ok io non leggo quotidiani neanche quelli sportivi mi informo in altri modi ora vi leggo che cosa ha pubblicato giovedì il coordinamento dei comitati di redazione di Gedi faccio notare che noi abbiamo l'amministratore delegato della Juventus che guarda caso è anche l'amministratore delegato di Gedi e questo mi fa un po' paura perché noi con gestione Agnelli Nelvede Paratici arriva bene Compagnia Cantante che si sono dimessi per cose strane siamo caduti dalla padella nella braccia cioè dopo quello che vi leggerò probabilmente rimpiangerete Agnelli e compagni ok di fatto bisogna rimpiangere Marotta ma comunque veniamo a noi allora ecco il comunicato faccio una premessa no il comitato ha diffuso un appunto uno scritto dove dice che la famiglia Elkan che acquistò nel 2020 dalla famiglia Benedetti appunto la Gedi aveva detto poche ore prima di aver raggiunto un accordo preliminare per la vendita del secolo XIX un quotidiano strettamente legato a Genova ma che per diffusione e rilevanza anche storica come dicevo prima è un po' a metà tra il locale e il nazionale e lo volevano vendere alla società di navigazione MSC crociere che conoscerete sponsor del Napoli tra l'altro il comunicato in questione di cui vado a parlare ripercorre le tappe della gestione Agnelli Elkan dall'acquisto del 2020 alla vendita di 15 quotidiani locali negli ultimi quattro anni cioè da 2020 al 2024 in quella che i comitati di redazione hanno definito dismissione dismissione i comitati non hanno capito hanno scritto di non aver mai compreso e io sono con il comitato non ho mai compreso il senso imprenditoriale dell'acquisto di Gedi da parte delle famiglie Agnelli Elkan che secondo loro sarebbe stato fatto a pezzi e smantellato senza alcuna strategia contestate con anche oltre 100 anni di storia rimpiazzate da siti hanno sostituito dei giornali storici famosi importanti che hanno un legame effettivo con la popolazione locale con dei siti tutti centrati sul marketing e la vendita di prodotti marketing e vendita di prodotti si potrebbe chiamare vannamarchismo cosa dite voi giusto Elkan il nuovo vannamarchi i comitati hanno aggiunto di aver chiesto in più occasioni a Maurizio Scanavino amministratore delegato di Gedi e della Juventus aggiungo io di dare una risposta a questa domanda cioè perché avete fatto questo ma non hanno mai ricevuto una risposta apre bocca solo se deve sparare delle cazzate su Allegri è sulla Juventus di cui non capisce una mazza qua invece che il suo lavoro ok perché non risponde non risponde beh bella roba hanno poi citato una frase che il grandissimo aggiungo io giornalista Corrado Augas rivolse a John Elkan due anni fa in trasmissione nella puntata Rai 3 Rebus gli disse Augas ad Elkan sottoscrivo ogni virgola e ogni parola con ogni dovuto rispetto ingegnere penso che lei non abbia riflettuto abbastanza su cosa voglia dire essere editori di giornali i giornali ingegnere hanno un'anima e comunque bisogna maneggiarli con cura in questi anni la strategia commerciale della nuova proprietà di Gedi è stata molto chiara si è basata per lo più sul contenimento dei costi vi ricorda niente questo e sono decisa riduzione dell'impegno negli ambiti ritenuti meno profittevoli come appunto quello dei giornali locali costosi da mantenere in un costante calo di vendita a cui finora non sono stati trovati rimedi quindi taglio dei costi non gli interessa il fatto che il giornale abbia diffusione o meno dove devono contenere i costi stessa cosa la juventus non interessa che la juventus vinca capite perché si sono si sono precipitati a difendere allegri non interessa che la juventus vinca adesso siamo diventati un brand ma nel senso più più schifoso più povero del termine dove è sufficiente portare a casa dei soldi la juve è un altro un'altra macchina da soldi pochi o tanti che siano ma deve portare a casa dei soldi i costi non devono superare le entrate anzi si sia o si auspica che le entrate aumentino e superino i costi ecco perché si parla di cedere uno tra chiesa uno tra vlaovic uno tra bremer o addirittura due dei tre poi voglio vedere io se vendiamo questi tre che sono i migliori della rosa della juventus in assoluto per qualità e per altri motivi dove andiamo a finire poi anche se dovesse venire clopo guardiola da denaro juventus o anche conte che tutti vogliono voglio proprio vedere conte comunque va al minan ve lo dico per cui quando si parla di elkan e qui finisco perché il comunicato prosegue va avanti quando si parla di elkan si parla di uno che ha come dio fra virgolette il danaro è un uomo che non ha passioni se non il danaro il vi il danaro aggiungo io per cui come si può sperare noi juventini che è uno che tratta così un prodotto di valore storico di valore morale di valore popolare come sono i quotidiani per esempio secolo decimo no no che io ho avuto amici a genova che lo considerano un po come la bibbia del giornalismo il loro giornale giustamente così come a parma i parmigiani considerano la gazzetta di parma il diciamo la bibbia come la gazzetta di manto di cui faceva parte appunto le 14 testate dismesse da geli tutto non puoi comprare una casa editrice per poi svendere per guadagnarci i quotidiani non ha senso quindi lui non ha comprato la casa editrice perché voleva e voleva fare qualcosa di culturale qualcosa di affascinante una nuova impresa a livello diciamo imprenditoriale no voleva semplicemente smantellare lo squalo lo squalo vi ricordate quando si diceva che berlusconi comprava le tv private per poi smantellarle per poi ingigantire canale 5 rete 4 italia 1 ecco stessa identica cosa allora a livello imprenditoriale io non ci metto becco ci mancherebbe altro non sono nessuno non ho la competenza per valutare queste cose a livello morale e a livello diciamo dell'impatto che c'è sia sui giornalisti che lavorano in geli sia sugli juventini che ti fanno juventus questa è una cosa vergognosa è una cosa vergognosa perché dimostra che quest'uomo non ha altri valori che non il via il danaro non gliene frega niente della maglia del colore del tifo dei soldi che spendiamo tutti quanti noi chi per partire dalla sicilia della sardegna dalla calabria dal piemonte da andare a far vedere la juventus in tutte le partite non ne frega niente nessuno chiaro quindi signori io ve lo dico siamo veramente caduti in basso io spero con tutto il cuore a conclusione di questa mia questo mio video che un giorno qualcuno che abbia a cuore la juventus non so chi possa essere e che abbia dei danari da spendere prenda questa squadra questa società poi la gedi se la vedranno i giornalisti se la vedranno i sindacati se la vedranno chi di dovere con chi rimarrà in geli ma io sinceramente spero che elkan sia un domani non tanto lontano un ricordo sbiadito legato alla juventus perché con quest'uomo secondo me noi non andiamo da nessuna parte soprattutto in europa ciao a tutti grazie a tutti